Una manifestazione che ha come obiettivo quello di coniugare corsa e solidarietà. Infatti oltre a voler riunire tutto il movimento potistico della provincia di Trapani, allo stesso tempo in occasione del Santo Natale il 25 di dicembre, vogliamo attraverso la sensibilizzazione dei partecipanti contribuire alla raccolta alimentare. Che significa? Che praticamente ogni partecipante non dovrà partecipare attraverso una quota di iscrizioni, quindi in termini economici, ma semplicemente portare dei prodotti alimentari di prima necessità da devolvere poi alla fine della manifestazione, consegneremo noi stessi, alla Fraternità Servi di Gesù Popolo di Sol Maria Goretti e all'Associazione San Giuseppe Laboratore. Il programma praticamente si svolge in questo. Il 25 di dicembre orario pressa poco 7.30-8, il tempo di organizzare un po' il tutto perché praticamente vengono molte persone dalla provincia, quindi Marzala, Mazzara, Alcama e quant'altro. Quindi il tempo di organizzare tutto. L'appuntamento è alla palestra Palafunivia, di fronte alla Funivia, il percorso Trapani-Erice, al comune di Erice, proprio il comune ci aprirà l'androne del comune stesso e ci ospita lì stesso dove ci sarà un rinfresco e quant'altro. Solo il te caldo. Solo il te caldo. Poi al ritorno faremo un rinfresco invece alla Palafunivia dove lì ci sarà insomma tutto assieme il Santo Natale.